La mia nonna abitava vicino a un campo d'atterraggio e quindi l'estate quando stavo da lei passavo delle ore con il naso all'insù a guardare questi puntini colorati che si libravano in aria e già allora mi son detto prima o poi vorrei diventare un pilota di perpendio. Mi chiamo Federico Soldati, sono un prestigiatore professionista però ho anche la grande passione del volo in parapendio ed è da qualche anno che con Fly Ticino propongo voli biposto in Ticino. Il mio primo volo in parapendio me lo ricordo molto bene, ogni piccolo movimento dell'aria, ogni piccolissima turbolenza, la percepivo con una certa prudenza, un certo rispetto, già dopo alcune settimane di scuola io e il parapendio ormai eravamo già un tutt'uno. Non c'è una stagione più bella di un'altra per volare in parapendio, non c'è una stagione più bella siccome ogni momento dell'anno ha le sue peculiarità, in ottobre i colori magici, rossi, arancioni, gialli dipingono le montagne come se fossero un quadro di Miró, noi la vediamo come un'attività turistica adatta proprio a qualunque momento dell'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.